Buonasera, chi sono quelle decine di migliaia di veneti che nelle ultime 24 ore sono andati a vaccinarsi? Sono tutti coloro che non si sono vaccinati, che hanno per ora evitato nolenti o volenti, oppure per problemi vari, hanno rinunciato o non hanno potuto inocularsi una o più dosi. Allora cosa succede? Che con l'introduzione del Green Pass, se si vuole continuare a vivere normalmente, andare al bar, al ristorante, andare in palestra, al cinema, a teatro, non si può fare altro che esibire la certificazione verde. E non essendosi vaccinati, l'unica soluzione è mostrare un tampone. Di qui l'assalto ai centri tamponi, dove gli infermieri protestano e dicono siamo al collasso perché questa è gente che vuole divertirsi, cioè non va a farsi il tampone per il tracciamento, per capire se è positiva o negativa, ma perché ha questo scopo, cioè poter liberamente circolare. E allora va detto che l'obiettivo del governo Draghi è stato raggiunto. È una spinta gentile, così l'ha definita il Presidente del Consiglio. Il fine giustifica il mezzo. E qualcuno dice, qualcuno dice, no, è una vaccinazione obbligatoria mascherata. E allora, se anche lo fosse, anzi forse lo è, e in attesa che questo governo decida per l'obbligatorietà del vaccino, che sarebbe la scelta più giusta e meno ipocrita, bisogna evitare di fare l'assedio ai centri tamponi, anche perché ora sono gratuiti. Tra poco non lo saranno più e ha fatto bene il Presidente Zaia a decidere in questo senso. Le piazze sono nuovamente piene di una minoranza di Novax, persone che ci hanno dato dei venduti, hanno dato dei venduti ai miei colleghi, che lavoravano, come sempre, con spirito di... con sprezzo anche del pericolo, diciamo, in situazioni di questo genere. È la solita dedizione. I nostri tecnici, che erano nelle piazze, ci hanno dato dei venduti. Allora queste persone, che abbiamo nelle immagini, che abbiamo ripreso, saranno denunciate per diffamazione. Diciamo che poi i soldi che raccoglieremo attraverso queste querele, e che ovviamente siamo sicuri poi di ottenere come risarcimento, per essere stati definiti corrotti. Questi ci hanno dato dei corrotti, come se qualcuno ci comprasse, chi ci compra una lobby segreta, un potere occulto, un grande vecchio dell'alta finanza. Dalle tasche di questi signori noi otterremo dei soldi che devolveremo agli anziani dell'RSA. Buona serata.